0 in Trenitalia, proveniente da Siena e diretto a Firenze-Santa Maria Novella, delle ore 11.54 è in arrivo al binario 2, ferma a Castelchiorentino, Empoli, Montelupo-Capraia, Firenze-Rifredi. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. di Trenitalia, proveniente da Firenze, Santa Maria Novella e diretto a Siena, delle ore 11.03, è in arrivo al binario 1. Ferma a pochi bozzi. Attenzione, a volto narsi dalla linea giacqua. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.